Il lavoro è quello che noi vogliamo portare e contribuire a portare in questa terra e signori si può fare, si può fare con le infrastrutture, investendo, si può fare con un sistema che dica alle aziende tu mettici del tuo, non avrai uno Stato che ti lavora contro. La riforma fiscale che per esempio questo governo sta facendo dice voi volete, dice la sinistra, voi volete gettare la spugna sulla lotta all'evasione fiscale, mai, però la lotta all'evasione fiscale si fa dove sta davvero l'evasione fiscale, big company, banche, frodi sull'iva, non il piccolo commerciante al quale vai a chiedere il pizzo di Stato perché devi fare caccia al cettico più che lotta all'evasione, l'evasione la devi combattere dove sta ed è quello che faremo perché noi vogliamo ridisegnare completamente il rapporto tra lo Stato e il contribuente.